I carabinieri del ROS e del comando provinciale di Napoli hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa su richiesta della procura distrettuale antimafia nei confronti di 13 indagati per associazione mafiosa, omicidio, detenzione illegale di armi, estorsione, contraffazione di marchi e di supporti audiovisivi. Al centro delle indagini lo storico clan Mazzarella di San Giovanni a Teduccio, attivo nel settore delle estorsioni in danno di operatori commerciali anche nel rione Luzzatti e nella zona della Maddalena. Tra gli arrestati figurano anche alcuni dei responsabili dell'omicidio di una delle guardie giurate rimaste coinvolte nell'agguato avvenuto in piazza del Carmine a Napoli il 4 agosto del 2009.